E' stata portata in scena da un gruppo di attori appassionati ed amici la commedia in atto unico sulla vita di Sant'Antonio da Padova, una ricostruzione storica e religiosa della vita di uno dei santi in assoluto più venerati ed amati dagli italiani. La messa in scena si è svolta in piazza Madre Teresa di Calcutta a Colle a Volturno per quello che è stato l'ultimo evento, spostato per case meteo, della festa dedicata proprio a Sant'Antonio da Padova. I bravi attori, per la maggior parte di Venafro, Colle a Volturno e Conca Casale, le parrocchie nelle quali ha operato ed opera Don Vincenzo Frino, si sono alternati con costumi d'epoca ben definiti nella descrizione della vita del santo, tentato ogni giorno dal demonio che lo metterà di fronte ad una serie infinita di problematiche. I miracoli del santo e la sua capacità di convincimento anche verso coloro meno credenti, una commedia che parte dalla vita di Sant'Antonio attorniato da genitori credenti e di grande spessore culturale. Ma non solo, i miracoli fatti in tutta Italia, come quello di Rimini. La commedia si conclude con la morte di Sant'Antonio che riesce, per l'ultima volta, in vita a salutare la propria famiglia. Emozionante la scena finale con i bambini che clamano il santo e con la presenza di tutti gli attori per il fragoroso applauso finale del pubblico collese sul palco scenico. Numerosi apprezzamenti per il grande lavoro fatto dallo scrittore e direttore dell'opera Don Vincenzo Frino.